Allora, grazie di essere qua. Io devo parlare di un libro, voglio parlare di un libro che parla di terrorismo, di terrorismo internazionale. Il problema è che vi chiedo pochi minuti per una digressione che apparentemente non c'entra niente, ma che è importantissima secondo me, perché mi sono reso conto, presentando questo libro in tutta l'Italia, che una parte del mio discorso non veniva capita, veniva capita poco, perché proprio mancava questa premessa che voglio fare. E la premessa che faccio comincia dal ricordo di una favola che tutti conosciamo, che è la favola del re nudo. Tutti la ricordiamo, cioè per chi per caso, per coincidenza, non si ricordasse, è quella favola dove tutto sommato viene raccontato di un regno dove c'era questo re, che girava nudo, ma siccome a tutti era stato raccontato con talmente tanta intensità e ripetuto talmente tante volte che questo re invece vestiva abiti bellissimi, ormai la gente non si accorgeva più che il re era completamente nudo, cioè di un fatto clamoroso, e lo vedeva vestito, fino a che poi c'è il famoso bambino che ha la voce dell'innocenza, che si rende conto che il re è completamente nudo e lo dice di fronte a tutti. Parto dal re nudo, perché è esattamente quello che sta capitando alla nostra società, al nostro convivere. Noi siamo di fronte a delle realtà clamorose, che potrei anche definire, dovrei anche definire, scandalose, vogliamo anche dire pornografiche. Da tanto sono scandalose e non ce ne rendiamo più in realtà conto, cioè qualcuno di noi vagamente ha un'idea o tenta o sente, ma nella grande maggioranza della nostra collettività ormai il re nudo lo vedono tutti. Cioè nel senso che lo vedono vestito, lo guardano tutti e nessuno si accorge che questo re è nudo. E a cosa mi riferisco in realtà? Mi riferisco, il mio re nudo è la sparizione, la distruzione dei diritti fondamentali dell'uomo, che è avvenuta nell'arco di pochissimi anni e di cui non ci stiamo più rendendo conto. E' importante capire questa cosa, perché guardate che è straordinario come ci abbiano sottratto dei principi di esistenza che abbiamo costruito in 250-300 anni di storia e che dovevano essere dati per eterni. Non so, così come è dato per scontato che si respira. Sono stati aboliti, o pressoché aboliti, e non ce ne rendiamo più conto. Chi ha fatto questo, quelli che io chiamo i nostri nemici, i nostri avversari, lo ha fatto con un'abilità incredibile, perché è riuscito a spogliare questo re completamente nudo e non ce ne siamo accorti. Noi oggi non stiamo più parlando, discutendo dei diritti fondamentali, stiamo discutendo animatamente quanto vadano aboliti i diritti fondamentali, più o meno. guardate che tutto il dibattito in Italia, ma anche nella maggioranza, nella quasi totalità, dei paesi occidentali, che leggete sui giornali, i telegiornali e le televisioni, è su questo, attenzione, non è più sulla vita e sui diritti, è su quanto devono essere aboliti. Allora naturalmente abbiamo una sinistra, una sinistra anche estrema, che dice noi siamo la sinistra, noi siamo quelli che per tradizione portiamo avanti il discorso dei diritti e noi diciamo che vanno aboliti al 40%. Poi c'è un centro che dice no, 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 i diritti vanno aboliti al 60%. Poi c'è la destra che dice no, 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 i diritti vanno aboliti al 80%. No, e si discute in Parlamento e si fanno le discussioni sui giornali, nei talk show televisivi e vanno aboliti i diritti al 40%, al 50%, al 60%, al 70%. Cioè questo è il dibattito. A questo voi siete chiamati a votare, a giudicare, eccetera. Questa è la scandalosa realtà di cui non ci rendiamo più conto. Cioè nessuno più sta pensando, sta proponendo, perché è completamente impensabile, che esistono diritti fondamentali. Diritti fondamentali. Il diritto ai beni comuni, l'acqua, l'aria. Il diritto alla salute. Cioè la salute non è una BMW. Se hai soldi la compri, se non hai soldi la lasci dal concessionario. Non può essere questo la salute. Di fatto oggi questo è la salute. Chi come me si occupa anche di questi temi, con un altro libro, mi sto occupando molto intensamente di salute, sa, e ve lo dico in maniera molto brutale, che la maggioranza degli ammalati di tumore in Italia muore 4-5 anni prima. Semplicemente perché non ha accesso. Ha delle cure che invece possono essere praticate, possono essere ricercate, trovate, se c'è l'aggancio, la conoscenza, il denaro, la possibilità. Questo è un dato di fatto. Oggi tutti diamo per scontato che naturalmente, certo, fai un'impegnativa per una mammografia o per un'ecografia o per una cosa, c'è da aspettare. Se vai privatamente, cioè se compri la BMW, te la danno subito, no? Però questo succede. Ma io trovo pornografico che succeda. Cioè non arrivo neanche ad accettare che se ne possa discutere. Ma va bene, ma va male, ma è giusto, ma non è giusto. Ci deve essere un settore privato, ci deve essere un settore pubblico. Cioè io trovo pornografico che abbiamo accettato che possa esistere una realtà di questo genere. Non dovrebbe proprio esistere. Il diritto alla libertà. Lo stanno cancellando. Intercettazioni. Leggi ad hoc negli Stati Uniti, ma anche adesso in Italia, arriveranno anche da noi. Le leggi che, per esempio, negli Stati Uniti è stato abolito. Abolito l'Habeas Corpus. Cioè una cosa straordinaria, incredibile. Dal 1200 e rotti, improvvisamente, quanti secoli sono passati, viene abolito l'Habeas Corpus. Scompare. E non si scende in piazza per questo. Parlo di diritti, come per esempio il diritto alla parità degli esseri umani. Cioè oggi diamo per scontato, lo accennava prima Fausto, che ci sono delle persone importanti. E' pazzesco. E' incredibile che qualcuno dica e che tutti ammettono che ci sono delle persone importanti. Ma come? Cosa vuol dire una persona importante? Chi è importante? Cioè qualcuno è più importante di questa signora? Perché? Cos'è il VIP? Perché ci sono le persone che contano? Perché abbiamo accettato questa struttura? Che poi ne potrei parlare per delle ore. Questa è un'altra cosa. Che sta distruggendo la nostra società. Ma questa è una cosa che è passata, è passata davanti a tutti, la accettiamo tutti. Nessuno scende in piazza, non ci sono le rivoluzioni contro questo. E' accettato che su questo pianeta uno è più importante di qualcun altro. E naturalmente è poi accettato di conseguenza che su quello più importante vengono accumulati privilegi incredibili. E non si sa perché. Però viene accettato. Tutti noi, tutti in questa stanza, senza eccezione, abbiamo accettato questo sistema. E' incredibile. E la negazione dei diritti arriva anche all'aver stroncato sul nascere dei diritti che erano i diritti del futuro. Perché siamo stati molto contenti che per 300 anni qualcuno abbia lottato per cominciare a stabilire dei diritti. Ma non è che, voglio dire, è finita lì. Si può continuare a stabilire dei nuovi diritti. Per esempio, il diritto a non lavorare sempre. Il diritto a dire, io sono su questo pianeta, che hai fatto così, è un bene comune, è anche mio, chi l'ha detto che io devo passare tutta la mia vita in un ufficio? Chi l'ha detto? Che io non devo avere, nel momento dell'energia, dell'abilità mentale, della possibilità fisica, il diritto di goderne di questo posto. No. Abbiamo tutti accettato che nasciamo, viviamo, ci ammaliamo e moriamo. E probabilmente, se siamo fortunati, abbiamo visto e goduto e sperimentato una frazione infinitesimale di questo bene comune. Naturalmente, sempre secondo la teoria dei VIP, altri hanno il diritto, invece di goderne pienamente. Non si capisce perché. Tutti noi dobbiamo lavorare sempre. Ma perché? E questo poi fa l'altro scapito dei rapporti familiari, figli, eccetera, eccetera. E ci sono tanti altri diritti, voglio dire, i beni comuni, il diritto alla casa. Adesso me ne stavo dimenticando perché poi sono proiettato su cose. Ma insomma, voglio dire, anche lì è accettato, ormai si deve fare un mutuo. Cosa paghi? 600, 700 euro al mese? Quanto deve durare? 30 anni, 40 anni? Che casa compri? Ma se riesci a tirarti su quei 60 metri quadri sei fortunato. Ma stiamo scherzando. Cioè io devo legare tutti i miei piedi e dei ceppi per tutta la vita per avere che cosa? Una casa. Ma è il mio diritto. È il bene comune fondamentale. E abbiamo accettato anche questo. Allora, così come noi oggi stiamo tutti in buona fede discutendo quanto vadano ridotti i diritti, non più dei diritti, così è anche la politica. Un intellettuale americano scrisse un libro, da alcuni anni fa, che si chiamava La fine della storia. Questo si chiama Francis Fukuyama. Lui diceva che la storia era finita perché era corrolato l'impero sovietico che naturalmente c'è l'unico sistema politico possibile da quello occidental democratico e naturalmente da questo libero mercato, da questo ne derivava secondo lui la fine della storia. Ha sbagliato tutto secondo me, perché questo non è fra l'altro neanche più successo del tutto, ma io ribattezzo questa teoria, la vera fine della storia, perché arriviamo al comportamento della politica su questo, su questa premessa che sto facendo. Cioè oggi la politica che ci vorrebbe rappresentare sta facendo esattamente quello che facciamo anche noi. Cioè oggi la politica si occupa dell'abolizione dei diritti e del grado di abolizione dei diritti. Cioè oggi abbiamo una politica di destra, un'altra politica di destra e un'altra politica di destra. La terza politica di destra si chiama sinistra, non se ne è accorta ma è di destra e discute temi di destra. Cioè quanto vadano aboliti i diritti dei cittadini, quanto vada ristretto il governo, quanta deregulation ci vuole, quanta atomizzazione della vita di ogni singolo cittadino è concedibile. Quello che è successo è la fine della politica, non la fine della storia. La fine della politica è laddove i partiti che si opponevano lungo lo schieramento sono tutti raggruppati da una parte. Cioè quelli di destra sono rimasti fermi al palo e tutti quelli che stavano alla sinistra e alla destra hanno fatto così. Sono tutti andati a destra, in tutti i paesi occidentali questo. In Inghilterra poi non ne parliamo. Una cosa spaventosa il fenomeno inglese. Allora, capite? Ed è la fine della politica. Di nuovo nessuno se ne sta rendendo conto, cioè ancora siamo convinti e discutiamo e facciamo i dibattiti, apriamo Repubblica la mattina e si discute del Partito Democratico, l'Ulivo, questo e quell'altro, ma di che si discute? Io non leggo più i giornali e non guardo più i telegiornali. Perché io di questa roba non voglio più sentire parlare. Allora, adesso qui potrei andare avanti molto tempo. Perché ho fatto questa premessa che è così grave? Perché se non faccio questa premessa non si capisce poi quello che vado a dire del libro. Cioè, non si capisce poi quando uno, come Paolo Barnard, scrive un libro che vi dice, guardate, che nel terrorismo il re è nudo. Da un re nudo, una volta che è passata l'idea che un re nudo vada visto vestito, e ci siamo tutti convinti che è vestito, da quel punto in poi, dieci, quindici, venti, trenta, mille, cinque mila re nudi. E li vediamo tutti vestiti. Cioè, ci dicono, esiste il terrorismo. Che ci minaccia tutti. Adesso, in Italia, il tema è passato leggermente in secondo piano, perché noi italiani ne siamo fatti così. Naturalmente, se non c'è una bomba da qualche parte, se non c'è una bomba a New York, piuttosto che a Londra, piuttosto che a Roma, non ce ne interessiamo più, sta per scoppiare la terza fase bellica per l'umanità, che sarà quella finale, c'è la guerra atomica, però a noi la storia del terrorismo non ci interessa quasi più, ormai i giornali ne parlano in maniera molto di secondo piano, ma in realtà, ecco, che ci raccontano che c'è questo terrorismo. E nel nome di questo terrorismo e della lotta al terrorismo, vanno fatte tutta una serie di cose. Naturalmente, anche qui, così come si dà per scontato che non debbano più esistere i diritti fondamentali, e che si deva discutere solo di quanto abolirli più o meno, così si dà per scontato che esiste un terrorismo, che è quello islamico, di Al-Qaeda. E si dà per scontato che tutti comprendano che c'è chi lotta contro il terrorismo. Quando il re è nudo, esiste un terrorismo, che è il nostro, quello occidentale, prove alla mano, ed esiste una reazione, violenta, sanguinaria, omicide, criminale, ripeto, violenta, sanguinaria, omicide, criminale, perché non mi si accusi di giustificare chi fa esplodere un grattacielo, piuttosto che chi mette una bomba in una discoteca, ma esiste un terrorismo in nostro, grande terrorismo, ed esiste una reazione. E se non si capisce questo, è meglio alzarsi da questa sala e uscire, perché non si capisce niente, non si capirà niente di quello che sta veramente succedendo nel mondo. Allora, a noi raccontano invece che la reazione è il terrorismo, naturalmente si ribaltano i tavoli. Così fece Reagan, per esempio, giusto per darvi una... Ma lo sapete, così faceva Reagan negli anni, negli anni del suo, nei suoi quasi dieci anni di dominio, negli Stati Uniti dell'Unione, negli anni Ottanta, dove convinceva gli americani che quello che stava succedendo nell'America Latina era terrorismo, quando in realtà era una reazione disperata, esasperata, a decenni di politiche neonaziste nei confronti di popolazioni inermi, che poi, nel momento in cui si ribellavano e formavano qualche gruppo armato, con l'acqua alla gola, ecco che venivano chiamati terroristi. Il ribattamento era questo. Reagan riuscì a convincere gli americani che Managua era più vicina a Arling a Harlingen in Texas, piuttosto di quanto fosse Washington a Managua. Cioè, i nicaraguensi ci stanno per invadere. Gradirei qualche sorrisino, perché, voglio dire, questo riuscì a fare Ronald Reagan, a convincermi sul serio, questo è un fatto storico, lo riporto nel libro, riuscì a convincere i americani di questo, per dirvi quanto si ribaltano i tavoli. Ora, venendo al discorso del terrorismo oggi, ci raccontano che c'è questo terrorismo, e dunque, naturalmente, ci devono raccontare anche perché c'è, perché ci sono questi terroristi, e ci dicono che questi sono degli islamo-fascisti, degli oscurantisti, ci raccontano tutta la loro storia, e ci dicono che naturalmente ci odiano, perché? Per nessun'altra ragione, se non il fatto che noi siamo liberi, siamo democratici, le nostre donne hanno la minigonna, e portano i capelli sciolti, abbiamo i talk show televisivi con le donine nude, tutte queste cose, e ci odiano perché siamo questi popoli così liberi, libertari e democratici, naturalmente loro negano tutto questo, e ci vogliono distruggere. Questo è tutto falso, è tutto falso, io nel libro cito fonti e documenti molto chiari, peraltro cito una bellissima battuta di Osama Bin Laden, che ripeto, non è una persona che mi sta simpatica per niente, però, nonostante questo, ogni tanto se fa una buona battuta gliela riconosco, e Bin Laden rispose al famoso perché ci odiano di Bush, alle camere riunite negli Stati Uniti d'America, all'indomani dell'11 di settembre rispose dicendo voi dite che noi vi odiamo per le vostre democrazie e per le vostre libertà, perché Bush non ci spiega perché non attacchiamo la Svezia? C'è un paese più libero, più democratico della Svezia? Naturalmente nessuno su New York Times, sul Washington Post o altri organi di regime, ha avuto, ma neanche in Italia, non solo nessuno l'ha pubblicata questa cosa, ma nessuno ha avuto l'idea di rispondere a questa domanda, naturalmente non ci odiano per questo, ci odiano perché ci siamo fatti odiare, e ci siamo fatti odiare dagli islamici in particolare, ma guardate non solo da loro, un po' da tutto il mondo, e le conseguenze si stanno vedendo in questi giorni, peraltro ma anche prima, perché era un pochino attento alle notizie internazionali, ci stiamo facendo odiare da tutti, le nostre politiche estere sono quelle che odiano, io nei miei viaggi sono stato accompagnato da una frase costante, che fossi in Medio Oriente, che fossi in America Latina, che fossi in Sud-Est Asiatico, la frase era sempre questa, nessuno odia voi, odiamo le vostre politiche estere, è molto semplice, nessuno odia gli occidentali, io nei giorni dell'attacco americano all'Iraq, nel marzo del 2003, mi trovavo dentro alcune delle più radicali moschee islamiche del Medio Oriente, non era una bella idea essere lì in quel momento, sicuramente, voglio dire, uno poteva pensare, beh, forse era meglio se andavo a Rimini, o in un altro posto, se non era comunque intervistare qualcun altro, ma non proprio loro, ecco, non nessuno mi ha torto un capello, tutti erano molto curiosi della presenza di questa persona, che peraltro era obbligata a parlare inglese, avrei voluto tanto parlare italiano, ma non c'era verso, perché il mio fixer mi traduceva solamente in inglese, per cui sentivano questo che parlava inglese, si immaginavano che fosse un americano o un britannico, quindi immaginate voi, nessuno mi ha fatto niente, nessuno mi ha tolto un capello, ma questo né a me né ad altri, mentre invece, per riprendere un po' quel filo che avevo lanciato prima, dove mi hanno fatto del male, sono stati altri popoli e altri paesi, non gli islamici, per esempio, sono stato aggredito in diversi paesi del mondo, ho fatto del male relativamente, intendo dire, per fortuna, ma sono stato aggredito in situazioni piuttosto pericolose, in diversi paesi del mondo, dove ho trovato un rancore buio, cieco, in Africa, in America, in Centro America, contro l'Occidentale, quindi anche questa è una narrativa che ci stanno raccontando, che è falsa, non è vero che ci odino solo gli islamici, ci stiamo facendo odiare in tutto il mondo, ora il motivo per cui, lo dico subito perché sarebbe sicuramente una domanda, gli islamici sono stati quelli che hanno reagito per ora con maggior violenza, è un motivo che è inerente all'interno di un'interpretazione di settore, di margine, non naturalmente un'interpretazione comune a tutti i musulmani, ma un'interpretazione diciamo di nicchia delle parole di un famoso ideologo che si chiamava Said Kotob, che è riportato nel mio libro, che è stato poi la, sarebbe bello molto parlarne, vi racconterai questa storia, se avessi il tempo, storia molto bella, molto interessante, di come questo uomo verrà raccontato lo stesso, verrà raccontato lo stesso, brevissimamente, perché, proprio si aggancia l'idea del perché ci odiano, voi immaginate che esiste questo ideologo diciamo di Al-Qaeda, chiamiamolo così per semplicità, che si chiamava Said Kotob, un egiziano, lui era un uomo, un uomo degli anni 40, che è un giovane insegnante egiziano, fra l'altro era un ammiratore di Truman, del presidente americano Truman, era un gran scocciatore, perché criticava le politiche della monarchia egiziana, era un intellettuale, uno scrittore, non era per niente un fanatico religioso, assolutamente non era un predicatore di nessun tipo, un insegnante, sì, certamente un musulmano religioso, praticante, ma niente di che, ammiratore di Truman, lui criticava molto la monarchia, ed era un rompiscatole, perché come intellettuale era abbastanza ascoltato, beh, la monarchia ebbe la bell'idea, e non l'avesse fatto, ebbe la bell'idea di spedire questo Said Kotob in America, con un incarico di studiare il sistema educativo e scolastico americano, lo mandano là, come dire, ce lo togliamo dalle scatole, Said Kotob va in America, mentre in America succedono alcuni avvenimenti molto importanti, fra cui anche per esempio l'abbandono, diciamo, delle speranze medio orientali di un intervento di Truman a favore dei popoli medio orientali, e contro le politiche di colonizzazione delle potenze europee, in particolare di Francia, nella zona medio orientale Francia-Inghilterra, si capisce benissimo che Truman non è per niente disposto a fiancheggiare l'autodeterminazione degli arbi, e invece si accoderà, così come poi tutti i presidenti americani, Eisenhower e dopo tutti gli altri, invece all'opera di spogliazione, di conquista, si stavano mangiando questi paesi, si stavano mangiando questi, si volevano mangiare queste zone ricche di punti di risorse, e Said Kotob ne trae una profondissima delusione. Quindi guardate qual è il punto di partenza, cioè stiamo parlando addirittura di un filo americano, di un quasi laico, di un occidentale, di un ammiratore della democrazia americana, pensate che il punto di arrivo è il più grande, profondo e rispettato ideologo di Al-Qaeda. Allora, Said Kotob in America, vittima di questa profonda delusione, comincia a guardare il popolo americano con altri occhi, e devo dire la verità, io mi sono letto, ho intervistato un esperto della vita di Said Kotob negli territori occupati palestinesi, il professor Musallam, e mi sono letto alcune cose, devo dire che sono straordinarie, perché se non sapessimo che queste cose le ha scritte un tal Said Kotob, penseremmo che le avrebbe scritte Michele Serra, o qualche sagace, spiritoso e profondo critico di sinistra, diciamo, della vita dell'impero americano, ma scrive delle robe molto, molto, molto pregnanti su il livello di corruttela di questa esistenza tutta commerciale, tutta cretina, tutta dedita a quello che poi diventerà l'esistenza commerciale di tutti i paesi occidentali del dopoguerra, quindi, che già in America era in pieno ritmo, torna da questo sventurato periodo in America e si scrive la fratellanza musulmana, proprio sempre in seguito a questa delusione, si scrive la fratellanza musulmana, diviene un attivista della fratellanza musulmana, e la storia è molto lunga, non mi posso permettere di farvela tutta, ma arrivo molto velocemente, faccio dei grandi salti, la fratellanza musulmana poi diventerà, prenderà di mira Nasser, Nasser prenderà di mira la fratellanza musulmana, il dialogo diventerà quasi impossibile fra i due, si estremizzeranno le posizioni, ci sarà un attentato a Nasser, una forte repressione della fratellanza musulmana, Saeed Khotb viene arrestato, viene messo nel carcere di Tura, che era il peggior carcere di tutto l'Egitto, dove Nasser, l'illuminato Nasser, ahimè, prendeva, pensate, già a quel tempo Nasser, che aveva una posizione di leader del rinascimento arabo, in funzione anti-occidentale, invece dentro a Tura lui aveva gli stessi uomini, le stesse tipologie di persone che hanno poi lavorato da Abu Ghraib in Iraq in questi anni, cioè i consiglieri della CIA che insegnavano le torture, e Saeed Khotb e gli altri vengono torturati in maniera animalesca, orribile, proprio da questi, da Agustini e Giziani, ma con la supervisione degli americani, le sue convinzioni contro l'America che si approfondiscono ancora di più, insomma la repressione mostruosa di questi uomini, fa nascere idee radicali all'interno del carcere, che non sarebbero mai nate, Seeed Khotb verrà impiccato nel 1966, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliarmi, ma dopo guardo la data precisa, e prima di essere impiccato dirà pubblicamente se il presidente ci avesse permesso di dialogare, noi non saremmo arrivati a questo punto. Sta di fatto che in carcere Saeed Khotb scrive il suo testamento morale, che si chiama Pietremigliari, milestones in inglese, in arabo purtroppo non lo so come si chiama, e che io ho a casa, in arabo, ho anche la versione inglese per fortuna, Pietremigliari viene trafugato dal carcere, dalla sorella, viene messo nelle mani del fratello di Saeed Khotb, che sta in Arabia Saudita, il fratello di Saeed Khotb è stato uno degli insegnanti di Bin Laden. Ayman al-Zawwari, qualche anno dopo, diversi anni dopo, l'impiccagione di Saeed Khotb, giovane studente di medicina, Ayman al-Zawwari è il numero due di Bin Laden, quello che si vede sempre nelle foto, col turbante e gli occhiali, il medico, chirurgo, lui, giovane studente di medicina in Egitto, fonda una cellula segreta di, a quel punto c'è Sadat, come presidente egistiano, fonda una cellula segreta di islamici combattenti, e il suo atto di giuramento, oggi reso pubblico, e che io, di cui io riporto un passaggio nel mio libro, cita Saeed Khotb, e dice, Saeed Khotb ci ha detto, fratello, la tua strada è insanguinata, non devi guardare né a destra, né a sinistra, né avanti, devi solo guardare in alto, verso il cielo. Questa frase in particolare, questo concetto, verrà interpretato da gente come Ayman al-Zawwari, Sucre Mustafa, e altri, come la ricetta per il martirio, nel nome di Dio. Avete capito cosa è successo? Cioè, siamo partiti da uno che ammirava Truman, e siamo arrivati a una sua frase, scritta in carcere, che è diventato il testamento di tutti gli uomini di Al-Qaeda, oggi io ho saputo da un uomo molto importante in Al-Qaeda, che ho intervistato, una guida spirituale, che Milestones viene letto, obbligatoriamente, da tutti i ragazzi che vanno nei campi di addestramento di Al-Qaeda. È la Bibbia, devono leggerlo tutti, obbligatoriamente. Quindi siamo arrivati da un uomo che ammirava, a un uomo che scrive questa frase, che verrà interpretata come il lascia passare per il fenomeno suicida, che nasce da lì. Capite come si lega, no? Con quello che vi dicevo, ci dicono che ci odiano, perché odiano la democrazia, eccetera, tutte balle, cioè queste sono le storie che contano. Allora, come sempre, si ripetono gli stessi schemi, cioè delle persone che hanno degli ideali, giusti o sbagliati che siano, vengono represse in questi ideali, in maniera brutale, da questa repressione nasce un estremismo, dall'estremismo nasce la reazione violenta. Ma è reazione, non è terrorismo. Terrorismo si definisce un atto premeditato di coercizione politica, militare, violenta, dell'autodeterminazione di alcuni popoli o di alcuni sistemi politici, che è esattamente quello che abbiamo fatto noi, in tutto il mondo, in particolare Stati Uniti, Gran Bretagna, Russia e Israele, più di chiunque altro forse in Medio Oriente. Questo è il terrorismo, il resto è la reazione. Se non capiamo questa differenza, non possiamo andare più in là di tanto. Allora, ecco che io arrivo a questo libro, dove comincio a parlare, non solo di Medio Oriente, su cui mi soffermo parecchio, perché mi rendo conto che è il tema più vivo, però ripercorro un po' la storia del grande terrorismo di queste nazioni, a partire da luoghi che sono anche piuttosto noti, diciamo, come l'America Latina. Cioè, un po' è di dominio comune che in America Latina sono successe delle cose tremende che sono state appoggiate, volute, finanziate dagli Stati Uniti dell'America in particolare. Però, quello che io riporto nel mio libro dell'America Latina, saltando a pie pari di proposito tutta la storia del Cile e dell'Argentina, perché, come dico, sono i fatti più conosciuti, sono altri fatti un po' meno conosciuti e che ci vogliono far capire e ci vogliono far capire proprio uno dei punti fondamentali di questo renudo, di questa menzogna con cui ci stanno riempendo le teste, che è il punto dell'ipocrisia. Perché, perché, leggendo questi fatti che io riporto nel libro, si capisce, fra l'altro, quanto fraudolenta e insostenibile è questa guerra al terrorismo. È talmente fraudolenta e insostenibile che può solo ritorcersi contro chi la combatte. Perché non è possibile combattere una guerra quando, cioè, è come mi disse un professore americano di scienze politiche mi ha detto, vedete, è come se la mafia stesse alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA. Ma come fa a funzionare un tribunale internazionale quando Provenzano, Tottorina e altre gente del genere sono i giudici in carica? Non è possibile, cioè, non si può fare giustizia in questo modo. La storia degli interventi americani in paesi come Salvador, i documenti che comprovano, che io ho trovato per primo e che provano il coinvolgimento e l'addestramento di terroristi proprio negli anni in cui Reagan e altri presidenti americani parlavano del fenomeno del terrorismo, le confessioni di alcuni esperti, fra cui, per esempio, David McMichael, che è un testimone importantissimo per il mio libro, perché era il, oggi è un professore universitario, ma lui è stato il direttore del Dipartimento di stime politiche per l'America centrale e lui sapeva benissimo che il pericolo comunista era un'invenzione di Nixon, era stato inventato apposta e non c'era e non esisteva, perché il problema è, e Nixon lo diceva questo, e ci sono i documenti declassificati che oggi lo provano e David McMichael mi ha detto noi non abbiamo mai creduto che ci fosse un pericolo comunista, era tutta un'invenzione e questa cosa si estende non solo nel Centro America ma anche per tutto il Sud America, il pericolo naturalmente era il modello alternativo di Allende che non doveva essere assolutamente, non doveva avere possibilità di nascere né di svilupparsi in nessun modo possibile di immaginarci, quindi sempre il discorso dell'autodeterminazione. Allora, quelli che oggi portano la democrazia con una guerra al terrorismo erano quelli che e ancora lo stanno facendo, la democrazia l'hanno tolta, combattendo con le armi del terrorismo. Tutti questi esempi sono importanti per capire l'elemento dell'ipocrisia. C'è un fatto molto curioso e simpatico se non fosse tragico nel mio libro che è la richiesta di estradizione di Osama Bin Laden fatta dall'amministrazione Bush all'Afghanistan dopo l'unice di settembre che correva a parallela nei corridoi del Dipartimento di Stato Americano con la richiesta di estradizione di un altro terrorista che sta in America responsabile di esattamente lo stesso numero di morti quasi 3.000 che si chiama Emmanuel Constant la richiesta di estradizione veniva da un piccolo paese che si chiama Haiti e da un presidente democraticamente eletto Jean-Bertrand Aristide due presidenti democraticamente il primo non lo so quanto il secondo sicuramente eletti Bush Aristide chiedono l'estradizione di due terroristi in un caso c'è la negazione dell'estradizione e un paese va e bombarda quell'altro nel secondo caso c'è la stessa negazione dell'estradizione proprio mentre Bush chiedeva giustizia e non è successo assolutamente niente il New York Times ha pubblicato la notizia in un trafiletto di queste dimensioni a pagina 21 non so che cosa del giornale questa è l'ipocrisia e ripeto appunto questo è lo stesso meccanismo che si è ripetuto in Medio Oriente ma non solo in Medio Oriente io ho preso in considerazione nel libro anche qualcosa di spaventosamente grave che non è a conoscenza del pubblico medio occidentale cioè che è quello che hanno fatto gli Stati Uniti e l'Inghilterra in Indonesia dove negli anni in cui iniziava a infiammarsi il Vietnam è stato compiuto un olocausto di livello nazista perché quando parliamo di cifre superiori a milioni di morti io credo che non si possa fare tante differenze voglio dire non è che se ne fai 4, 5, 6 e se ne fai 2 allora quello è un olocausto di tipo nazista quell'altro no cioè parliamoci chiaro si tratta di cifre spaventose ebbene vengono ammazzati quasi 2 milioni di contadini politici attivisti donne uomini bambini polli e galline facevano fuori qualunque cosa si muovesse in Indonesia solamente perché rappresentavano questo modello alternativo di stampo socialista e non comunista i documenti che provano i non legami di questa gente con la Cina e con l'Unione Sovietica sono tutti nel mio libro vengono sterminati e ci sono i documenti d'ambasciata segreti che io riporto nel libro dove diversi diplomatici americani presidenti ministri degli esteri che possono segretare di stato non solo approvano ma applaudono quello che sta succedendo con frasi agghiaccianti cose che fanno venire la pelle è inimmaginabile pensare che un diplomatico inglese potesse scrivere di fronte a centinaia di migliaia di cadaveri cifre incredibili stermini incredibili mi sembra che qualche fucilato in indonesia potesse fare solo bene questo viene scritto testuale dall'ambasciatore Andrew Gilchrist a sua maestà britannica e per dirvelo un'altra dispaci d'ambasciata che dicono in maniera molto fredda perché sono dispaci di funzionari dei servizi quindi non ci mettono nessuna emozione dicono a Bali si contano già 80.000 morti le stragi continuano e non se ne vede alla fine io sono stato a Bali in vacanza e anche per lavoro tutte e due e mentre ero lì mi chiedevo dove stavano questi 80.000 corpi cioè vi rendete conto che tu esci dal Bangalore la mattina dopo che ti hanno servito le frittelle di mele e i succhi di papaya e probabilmente se tu tiri su le mattonelle lì sotto ci sono delle ossa ma dove li ha messi 80.000 più perché poi se ne sono 100.000 150.000 cadaveri in quell'isola lì dove li hanno ficcati cioè si tratta di fosse comuni se Berenizza abbiamo parlato di 3.000 morti ma cioè questi sono 100.000 80.000 dove sono capite cioè questo avveniva con l'entusiastico sostegno alla consapevolezza dei servizi dei presidenti dei premier inglesi americani e via discorrendo quindi il libro parla anche di questa di questo retaggio questa è la gente che oggi combatte la guerra al terrorismo questa è l'ipocrisia tremenda pazzesca allora capite quando io vi parlo del renudo cioè ma come possiamo permettere che questa sia la gente che oggi affronta un tema come quello della resistenza islamica resistenza che ha preso forme violente criminali resistenza è però come possiamo noi oggi fidarci di questa gente perché noi oggi lasciamo in mano a loro questa roba e lasciamo in mano a loro questa roba compiendo un atto che non è solo immorale per tutte le ragioni che ho elencato che sono solo un cinquantesimo di quelle che ho in testa e per motivi di tempo non posso continuare a parlare perché se no poi ci si perde ma non è solo una cosa è anche pericoloso non è solo immorale questo è anche pericoloso per noi perché noi poi alla fine corriamo i pericoli perché nel momento in cui ci raccontano queste bugie sulle ragioni del terrorismo che oggi ci minaccia e quindi ci sottraggono la possibilità di intervenire in maniera efficace cioè se vogliamo smettere di saltare in aria in metropolitano sugli autobus dobbiamo smettere di farci odiare punto questa è la ricetta e non troviamo occasione migliore ogni giorno per continuare a farci odiare e facciamo sempre di peggio e questo riguarda noi perché qui dove siamo a Mezzolara bene allora questi io lo metto nel libro il libro si apre così è un'immagine molto efficace perché quando io parlo alla gente e siamo a Mezzolara io posso capire siamo a Londra siamo a Roma uno dice vabbè i target ovvi ma questi qua di Acitrezza province di Catania queste facce come dire Mezzolara province di Bologna ma questi si sarebbero mai immaginati di morire per Al-Qaeda cioè di morire per la menzogna di questa storia del terrorismo della guerra del terrorismo ma mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai sono morti ora capite che ci riguarda tutti ma poi non solo ci riguarda tutti perché rischiamo di saltare per aria ci riguarda tutti anche perché la nostra vita si sta immiserendo perché con la scusa della guerra al terrorismo sta passando di tutto e di più stanno passando spese militari che sono spaventose si discute dell'abolizione dei diritti vero cioè si discute della buffonata della finanziaria stiamo tutti a leggere il giornale e a vedere perché questi miliardi di qua o due miliardi di là o un milione di qui o un milione di là e poi quando vai a vedere la voce non pubblicata poco discussa pochissimo delle spese militari o dei fondi di ricerca per l'innovazione militare italiana sono una quantità di soldi che se io ho un'ecografia prenotata fra 30 giorni io scendo in piazza con la roncola perché è la mia vita Cristo Santo e io non posso avere un'ecografia domani mattina o dopo domani o non posso avere un'attacca per salvarmi la vita e questi qua mi danno 12-13 miliardi di euro per le spese militari e non so quanti altri milioni di euro per questo pacchetto di innovazioni di ricerca ma stiamo scherzando cioè capite ne va anche dalla nostra vita da questo punto di vista oltretutto non solo perché rischiamo sugli autobus sulle metropolitane perché al-Qaeda ci fa paura è nostro interesse di svelare questa roba e cominciare a vedere cose come stanno e cominciare a chiedere le soluzioni più eque cioè basta ascoltare Aiman al-Zawari Bin Laden toglietevi dai nostri paesi togliete le mani dalle nostre risorse è tutto lì i presti da pagare ci sono ma sono immensamente inferiori a quelli che paghiamo oggi voglio dire non perdiamo nessuna occasione per continuare a farci odiare allora abbiamo fatto la guerra in Iraq l'abbiamo fatta e in questo caso ci può proprio dire abbiamo perché se in indonesia dal 65 fino al 75 fino al 2000 altro che 75 dal 65 al 2000 perché dopo c'è stato Timorest e la tragedia di Timore eccetera comunque se in indonesia l'Italia non era presente se non con un appoggio ideologico perché appartenente allo stesso sistema di potere ma a Cristo in Iraq c'eravamo anche noi in Afghanistan ci siamo ancora e cosa sta succedendo in Iraq parte la narrativa il re nudo dobbiamo vedere questo re completamente vestito in realtà il re nudo ci dicono che siamo in Iraq a portare la democrazia eccetera eccetera in Iraq sta succedendo un'altra cosa di cui di nuovo non si parla non si deve parlare motivo per cui abbiamo ipotecato non qualche anno di odio altri decenni di odio nei nostri confronti l'Iraq è la seconda istanza nella nuova storia dell'humanità millennio del nuovo imperialismo il vecchio imperialismo era l'imperialismo che entrava in un paese se lo conquistava se lo sfruttava il nuovo imperialismo si definisce come quell'imperialismo che entra in un paese lo conquista e lo vende questo sta succedendo in Iraq l'Iraq lo stanno vendendo attenzione lo ripeto non stanno conquistando un territorio per rimanere lo stanno conquistando per venderlo cioè qualcuno arriva a casa tua dove tu sei nato dove sono nati i tuoi genitori dove conosci le tue strade dove conosci le tue piazze dove conosci i tuoi fiumi le tue risorse i tuoi campi prende tutto e lo vende e tu non puoi farci niente loro lo sanno noi no loro ci odiano a morte per questo noi no e guardate che non si tratta solo della minoranza cosiddetta sunnita perché oggi uno dei problemi più gravi che ha l'amministrazione americana è nel tenere a bada anche gli sciiti e la ribellione degli sciiti e l'odio che c'è fra americani e sciiti c'è tutta una storia molto complicata veramente qui a parte i kurdi che hanno un interesse molto settoriale limitato ma veramente qui si parla proprio di un odio che si sta generalizzando ovunque in quel paese contro noi lo stanno vendendo è la seconda volta che questo succede nel nuovo colonialismo del terzo millennio la prima volta è stata in Kosovo il Kosovo la guerra del 1999 per il Kosovo è stata fatta esattamente per lo stesso motivo in Kosovo c'è una gestione dell'ONU che ha un nome stranissimo un MIC e c'è un'istituzione che si chiama il KTA che è il Kosovo Trust Agency che è il corpo di amministratori che hanno il compito di vendere il Kosovo al miglior offerente straniero in queste vendite in Kosovo così come in Iraq vengono applicate tutte le regole più selvagge della negazione dei diritti di cui parlavo prima quelle talmente selvagge che neppure in paesi come gli Stati Uniti hanno possibilità di avere successo sono state rigettate queste regole persino negli Stati Uniti d'America in questi territori in queste no man's land in queste terre di nessuno che vengono conquistate per essere vendute a pezzi si applicano queste regole selvagge allora si va in questo posto si vende la roba chi compra non deve pagare nessuna tassa espaltre tutti i capitali senza possibilità di senza dovere di lasciare niente alla popolazione locale e se per caso una qualunque azienda straniera incappa in una disputa commerciale legale con una entità locale l'arbitrariato è straniero cioè se io arrivo e faccio una magagna e ti inquino il fiume e ti ammazzo 200 bambini di un asilo lì vicino e succede un patatrac perché io ti ho versato nel mercurio in questo fiume che cosa e c'è un processo una bopal diciamo ecco per capirci allora io non posso essere processato lì in Kosovo o in Iraq verrò processato da un tribunale esterno internazionale oppure una qualunque disputa di ordine legale economico finanziario di nuovo l'arbitrariato esterno e tutta una serie di regole di questo genere per esempio l'esportazione dei capitali come dico l'ordinanza 39 si chiama ordinanza 39 una delle 100 ordinanze di Bremer il proconsule americano in Iraq che ha lasciato il suo compito nel 94 lui è riuscito in un anno a mettere dentro queste 100 ordinanze una di queste l'ordinanza 39 è tremenda sarà leggete una cosa sperimentosa è tutto nel libro quello che vi sto dicendo è tremenda perché proprio parla di questa possibilità di arrivare fare denaro esportare i capitali senza assolutamente lasciare niente il 100% dei beni può essere esportato portato fuori dal territorio che viene conquistato e in questo modo venduto laddove si parla di tassazione la tassazione è una flat tax al 15% attenzione questo vuol dire che la Exxon subisce la stessa tassazione di un barbiere iracheno uguale paga le stesse tasse stessa stessa aliquota flat tax quella stessa flat tax che Gingrich voleva introdurre negli Stati Uniti dell'America e che il congresso americano ha rigettato pensate neppure in America sono riusciti a fare una cosa così in questi territori di nessuno si sta facendo questo li stanno vendendo ora immaginate chi vive queste situazioni e chi ne è consapevole l'odio che prova nei nostri confronti ma non per niente quando fanno un sondaggio d'opinione come quello per esempio fatto da un istituto di Washington che si chiama il Republican Institute vengono fuori delle cifre spaventose dal 60 all'80% degli iracheni si dichiara contrario alla privatizzazione dei beni favorevole alla nazionalizzazione alla rinazionalizzazione dei beni favorevole agli interventi statali nell'agricoltura e poi dopo c'è tanto da raccontare per esempio altri motivi di odio sempre nel tema del perché ci odiano per esempio le truffe che vengono fatte su questi popoli perché sono ripeto non sono mai chiamati a esprimersi tutto questo viene fatto senza che nessuno dei cittadini di questi paesi abbia la ben che minima possibilità di esprimersi per esempio la nuova legge sul petrolio che è stata messa davanti che verrà messa davanti al Parlamento iracheno in questi giorni e che sappiamo da fonti autorevoli che è stata discussa anticipatamente dal ministro dell'energia americano Sam Bodman è stata scritta da un istituto americano da un'agenzia americana che si chiama Baring Point che è stata discussa con il ministro del petrolio al Saristani tutto questo in privato quando ancora prima Ali Abdelmadi che è stato vicepresidente dell'Iraq e ha ricoperto altri carichi istituzionali molto importanti si ricò Washington al National Press Club Association a rassicurare le multinazionali americane che le fette più grosse della torta sarebbero andate a loro quindi tutto questo succedeva senza che nessuno potesse esprimersi all'interno democraticamente all'interno come referendum con niente all'interno del popolo iracheno bene questa legge sul petrolio sta per passare che ha avuto questo trattamento sta per passare adesso alla visione del parlamento iracheno un parlamento iracheno che naturalmente è il famoso parlamento at gunpoint si dice in inglese cioè un parlamento che è sotto il tiro del fucile capite il tiro del fucile di questo parlamento si chiama fondo monetario internazionale il quadretto è sempre lo stesso in tutto il mondo si chiude perché cosa è successo anche lì per riuscire a far passare queste nefandezze a uomini politici iracheni che per quanto siano corrotti e corruttibili comunque avevano il mal di stomaco perché il ministro per il petrolio all'ulom che era per carità un totale filo americano era completamente d'accordo con tutta l'amministrazione bremer eccetera però gli è venuto un tam al di stomaco a un certo punto che non ce l'ha fatta più e si è ribellato gli americani gli hanno dato una lunga vacanza extended leave gli hanno detto senta lei si prende una lunga vacanza fuori al posto su è arrivato cialabi quel bel personaggio di cialabi allora quindi dico questi polizzi americani questi polizzi iracheni che comunque il mal di stomaco se lo fanno venire di fronte a queste robe perché poi alla fine sono costretti a farle non solo perché magari gli passa gli si passa il privilegio lo bustarello o quello che è semplicemente per il fatto che il fondo monetario internazionale arriva in ira che dice voi iracheni siete molto indebitati ahimè avete molti debiti sono tanti 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 miliardi di dollari dice si potrebbe fare qualcosa cioè ci mettiamo una buona parola e rinegoziamo i vostri debiti vediamo di cancellarvene un pochino naturalmente no? allora questi politici naturalmente dicono beh è chiaro insomma sì ci stiamo è una cosa interessante è una cosa importante perché col debito sapete che c'è uno strangolamento che è quello che poi tiene tutto il terzo mondo sotto scacco allora il fondo monetario internazionale dice in particolare in questo memorandum of understanding del 2004 e più tardi con un documento del 2005 il fondo monetario internazionale dice benissimo abbiamo parlato col Paris Club che è il gruppo dei creditori internazionali più potente che c'è di questi 120 miliardi di dollari eccetera ne possiamo rinegoziare l'80% suddivisi in questo modo il 30% subito il 30% se accetterete tutte le condizioni del fondo monetario internazionale calma e il 20% quando il fondo monetario internazionale avrà verificato che voi avete messo in pratica tutte queste condizioni cioè capito avete un capo al collo non vi muovete da qui a lì cioè è finita siete sotto scacco cioè chi fa politica in quel paese non può fare niente at gunpoint capite cioè questo è veramente il fucile con cui ti tengono sotto mira perché si tratta di cifre talmente spaventose che se vengono pretese e va in collasso il paese allora arrivo alla conclusione del ragionamento e poi il fondo monetario internazionale fa le sue regoline via i sussidi sull'agricoltura via i sussidi di stato a qualunque cosa via i sussidi all'alimentazione via la sanità pubblica via i sussidi alle scuole tutte queste belle robine che il fondo monetario fa sempre in tutto il mondo ma qual è il punto cruciale che il fondo monetario ha messo nel memorandum of understanding del 2004 e che questi uomini col mal di stomaco devono accettare a tutti i costi e si chiude il cerchio la privatizzazione del petrolio iracheno una privatizzazione che viene fatta attenzione in un modo molto subdolo con questi contratti che si chiamano i sono i contratti di produzione di condivisione della produzione production sharing agreements cioè i contratti di condivisione della produzione dove le compagnie straniere arrivano investono con il solito giochino che poi tutti i capitali se li portano fuori senza pagare niente eccetera eccetera non hanno il dovere di lasciare nulla di rispettare l'ambiente non devono fare assolutamente un accidente di niente quindi viene privatizzato a pezzi questo petrolio messo nelle mani di queste compagnie che per i primi anni di attività ne hanno un ricavo del 70% degli introiti voi pensate per darvi un termine di paragone che il massimo con una compagnia straniera come la BP come la Exxon come la Total chiunque lavori in Arabia Saudita è il 10% in Iraq è stato permesso grazie a queste continue truffe legali che vengono imposte ai politici irachieni e naturalmente non si parla neanche del popolo iracheno si arriva al 70% che poi cala man mano che gli investimenti vengono recuperati a un 20% che comunque è il doppio di quello che è la standard delle compagnie occidentali negli altri paesi produttori di petrolio ora si può andare avanti e questo è enshrined cioè proprio è messo dentro a questo pacchetto questo accordo che il Fondo Monetario Internazionale impone all'Iraq con il ricatto del debito eccetera eccetera l'uomo che ha fatto tutto questo si chiama James Baker James Baker l'uomo che poi ha fatto l'Iraq Study Group cioè che sembra adesso un buono fra l'altro passa per essere uno ragionevole perché è quello che dice Bush dai non fare la guerra nucleare all'Iran parlaci no? cioè questo è diventato per una certa stampa italiana una persona ragionevole è l'uomo che ha condotto tutto questo tanto per capirci chi sono i personaggi ora ecco torniamo sempre al punto di prima non credo che qui dentro noi rappresentiamo la media dei cittadini italiani credo proprio di no il 99,9% degli occidentali per non parlare di italiani non sanno queste cose e naturalmente devono bersi il fatto che tutto questo sta succedendo semplicemente perché loro ci odiano perché noi abbiamo le minigonne i parlamenti i parchi pubblici e i cinema con le scene sexy capite? utile quindi leggersi questi libri per sapere arrivo a una conclusione perché poi magari sarebbe carino fare la famosa quella parte così imbarazzante che sono le domande del pubblico perché noi regolarmente si si trova con dei silenzi tremendi ma poi alla fine si anche per sviluppare altre cose forse anche inerente al discorso precedente ma insomma concludo dicendo una cosa guardate a questo punto delle serate si arriva sempre al momento in cui chi parla dovrebbe dare un'indicazione su che cosa combinare su cosa fare bene abbiamo detto queste cose abbiamo parlato di questa ipocrisia dell'odio ipocrisia della guerra al terrorismo di questi di questi re nudi eccetera cosa facciamo io ho passato gran parte della mia vita perché di conferenze ne ho fatte tante perché prima facevo le inchieste e quindi andavo in giro per le mie inchieste poi dopo i libri eccetera insomma ho sempre dico molto francamente c'è stato un terzo della mia attività in cui io alla fine davo delle ricette offrivo delle ricette per fare per combinare per dire per agire eccetera nelle quali credevo poi c'è un secondo terzo della mia attività in cui io offrivo le stesse ricette e non ci credevo più e quindi dicevo delle balle mentivo e mentivo perché non mi sentivo di mandare a casa delle persone così gentili con queste facce così belle con la faccia che gli cascava sotto i piedi e poi una terza fase che è quella recente in cui non mento più e vi dico che su questo non c'è niente da fare perché se pensiamo di poter intervenire sui meccanismi che ho descritto in questa serata a partire dai re nudi a partire dallo scempio dei diritti fondamentali dell'uomo eccetera per arrivare allo scempio della politica estera eccetera se vi dicessi che c'è qualcosa da fare vi direi delle balle secondo me è la mia personale opinione naturalmente agire cioè mobilitarsi su questo non serve più a niente è chiaro perché non serve più a niente non serve più a niente per un discorso che è più lungo di quello che vi ho fatto questa sera quindi richiederebbe un'altra sera è tutta un'elaborazione teorica mia che io ritengo molto importante si può anche riassumere devo dire la verità però insomma è un po' complessa la cosa che rientra anche dentro il discorso dei VIP è tutta una cosa abbastanza ma non si può più fare niente perché è successo qualcosa di molto drammatico alle nostre vite nel frattempo e quindi noi siamo esattamente come quel soldato tutti noi che vorremmo fare qualcosa e che pensiamo di poter fare qualcosa siamo esattamente come questo anche questo signore qua per esempio anzi lui prima di tutti siamo come quel soldato della prima guerra mondiale chi è che qui si ricorda quella famosa battuta il poveretto non se n'era accorto andava combattendo ed era morto noi siamo esattamente così non ce ne siamo accorti vi ricordate cosa vi dicevo prima non ci siamo accorti di come siamo conciati stiamo qui a leggere Repubblica a guardare Ballarò e siamo tutti convinti infervorati e siamo conciati malissimo stiamo discutendo di quanto eliminare i diritti non più dei diritti lo ripeto per la sesta volta ora siamo esattamente così quella battuta mi è stato detto spero che storicamente sia vero proviene da uno dei fronti della prima guerra mondiale dove un soldato lanciato alla carica ebbe la testa mozzata da una granata da qualcosa e continuò a correre per 5-6 metri sparando senza testa e da lì le battute dei commilitoni furono il poveretto non se ne era accorto andava combattendo ma era morto siamo messi così noi siamo morti siamo morti se non decidiamo di deporre le armi e fermarci tutti fermare questo treno il treno che si chiama attivismo politico il treno che si chiama far politica il treno che si chiama porta allegre il treno che si chiama movimenti il treno che si chiama picchio rosso tutta questa roba la fermiamo tutta e ci mettiamo a pensare a come risolvere il problema che sta di dietro che è quello che ci ha già uccisi tutti ci ha già fregati tutti siamo tutti morti e se non troviamo il modo di riattaccare quella spina là è inutile che andiamo avanti a combattere non serve a niente siamo morti allora è inutile che io mi metta qua a raccontarvi si può fare questo si può fare quell'altro scrivete i fax non so mandate i soldi a quello oppure fate la manifestazione zero zero non è così che si deve fare i dati sono incontrovertibili vi lascio con una sola riflessione da cui potrebbe ripartire una seconda parte ma non so se ne abbiamo il tempo pensate che noi stiamo cercando siamo secondo me naturalmente queste sono sempre le mie opinioni siamo conciati come vi dicevo all'inizio di questa serata siamo siamo uomini siamo filosofi della libertà chiusi in una gabbia e stiamo dicendo discutiamo di libertà come ne discutiamo la gabbia deve essere di 6 metri o di 4 facciamo un dibattito secondo me deve essere di 4 metri e 25 la catena di quanto deve essere guarda deve essere di un metro e mezzo no 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 secondo me deve essere di 2 metri e siamo filosofi della libertà stiamo discutendo della libertà dell'uomo discutiamo se la gabbia deve essere di 4 metri o di 6 siamo ridotti così allora guardate ripeto se non arriviamo a riattaccare con la spina là non si può fare nulla siamo vestiti veramente male io chiedo la volontà di fare questo di rinunciare a questa spinta compulsiva a reiterare sempre le stesse cose che facciamo credendo di continuare a lottare quando in realtà i dati ci dicono che non è vero e vi lascio che stavo dicendo con questo dato gente come noi in una condizione altrettanto grave quanto la nostra ma secondo me meno grave gente come noi sto dicendo attenzione in una situazione come la nostra ma secondo me meno grave della nostra trovò la forza in 60 anni di cambiare la storia dell'umanità in 60 anni hanno cambiato 3.000 anni di storia 3.000 dal 1789 al 1848 il mondo è cambiato sono 60 anni chi ha combattuto gli affamati i disperati quelli che avevano il fuoco sotto al sedere perché morivano di fame ma che erano i borghesi e io mi chiedo se quei borghesi là che possiamo criticare possiamo dire quello che vogliamo ma se quei borghesi là in un clima dove era molto più facile avere la testa mozzata di quello che oggi può rischiare chiunque di noi decide di fare una rivoluzione se quei borghesi là in 60 anni hanno smontato 3.000 anni di storia perché questi borghesi qua che sono in una situazione ancora peggiore di quella in cui erano allora quegli borghesi non fanno più niente cioè non facciamo più la rivoluzione permettetemi forse una battuta spiacevole ma non mi parlate delle sciocchezze delle manifestazioni i sit-in quelle robe lì i dibattiti i micromega per favore quella è roba penosa non serve a nulla parlo della rivoluzione di fronte all'enormità della nostra condizione dove oggi ripeto per l'ultima volta veramente ve lo prometto ci stanno negando i diritti più fondamentali dell'esistenza umana noi borghesi non facciamo niente rispetto a quello che fecero quei borghesi perché dobbiamo riattaccare con la spina grazie a tutti grazie a tutti